Stiamo affrontando un'emergenza, un'emergenza nazionale. Stiamo agendo con la massima determinazione per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Alcune strutture ospedaliere sono già in difficoltà. Noi vogliamo garantire la salute dei cittadini. Ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio. Ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell'autoresponsabilità. Dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori e soprattutto la salute dei nostri nonni.